Interpellanza 413, attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, primo firmatario il Consigliere Violi che ha facoltà di illustrare il contenuto. Grazie Presidente, questa interpellanza nasce da una prerogativa che è la trasparenza della pubblica amministrazione e della politica che comunque sono spesso, il funzionariato e la politica sono separate, sono un dovere nei confronti dei cittadini. Noi sappiamo benissimo che il decreto legislativo 33 del 2013, ricante riordino di disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte pubblica di amministrazioni, prevedeva l'obbligo di rendicontazione semestrale attraverso la sezione dei siti internet delle varie pubbliche amministrazioni, quindi sui vari siti internet dovrebbe esserci uno spazio dedicato che si chiama amministrazione trasparente dove devono essere pubblicati con cadenza semestrale, come dicevo, autorizzazioni e concessioni, scelte del contraente per l'affidamento ai lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive e altre gare che vengono fatte dalla pubblica amministrazione. Le aziende ospedaliere e le ASL hanno, in quanto aziende pubbliche, hanno questo obbligo, quindi fanno parte della pubblica amministrazione e hanno questo obbligo. Nel tentativo per controllare se queste aziende ottemperassero all'obbligo abbiamo fatto un'analisi, una ricerca campione su quattro aziende ospedalieri che sono ospedali riuniti, Papa Giovanni XXIII, il Bolognini Seriate, il Niguarda e il San Gerardo di Monza e abbiamo trovato praticamente nulla, non c'erano assolutamente informazioni. Vorrei aggiungere che, e questo esula poi dalla risposta dell'assessore, anche alcune aziende partecipate a Regione Lombardia come, ad esempio, Infrastrutture Lombarde, c'è tutta la sezione ma poi quando si vanno a aprire gli allegati è tutto inaccessibile e i dati non sono scaricabili. Per noi era importante a questo punto sapere dall'assessore se ha una conoscenza di quante sono e quali sono le aziende ospedaliere e le ASL che non si sono ancora adeguate al rispetto delle normative ed eventualmente come pensa di intervenire l'assessorato per sollecitare tutte queste aziende ad adeguarsi alla normativa e a dare trasparenza ai cittadini nel merito della spesa pubblica e di tutte le operazioni che queste aziende fanno. Quindi ricordo davvero che è un dovere nei confronti dei cittadini, più c'è trasparenza meno corruzione c'è e questo lo dice anche una delle finalità del decreto legislativo 33 quindi il mio augurio è di avere una risposta che ci sia adeguati in tempo e che ci sia adeguati entro oggi e che si terrà monitorata la situazione da parte dell'assessorato. Grazie. Grazie risponde l'assessore Mantovani in mia facoltà. Grazie presidente. Naturalmente per una risposta completa e adeguata alle richieste abbiamo sentito la direzione funzione specialistica della prevenzione della corruzione e della trasparenza competente in ordine al coordinamento degli enti del sistema regionale. Pertanto comunichiamo che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013-33 sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione di questa delega oltre a contenere alcune disposizioni di carattere generale il decreto legislativo disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni distinti a seconda della tipologia di informazioni a cui si riferiscono nonché il regime di responsabilità e delle sanzioni per il mancato ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. La tipologia più ampia di obblighi disciplinati nel decreto riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni. In particolare si richiama l'articolo 23 che reca i obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi del quale. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi in distinte partizioni della sezione amministrazione trasparente gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di l'autorizzazione o la concessione, la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti pubblici, dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture, come previsto dal decreto legislativo 163 del 2006. Pubblicano inoltre i concorsi, le prove selettive per l'assunzione del personale, le progressioni di carriera di cui è l'articolo 24 del decreto 150 del 2009, gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti, compresi nei richiamati elenchi, sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista, gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento e la pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione nel documento che contiene l'atto. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza del decreto 33, si prevede che dall'articolo 43 che ogni amministrazione individui al proprio interno un responsabile per la trasparenza, che di norma coincide con il responsabile per la prevenzione della corruzione previsto dal decreto 190 del 2012. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti e assicura la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnala all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione, all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. La Giunta regionale, con deliberazione numero 1185 del 20 dicembre scorso, recante determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2014, ha tra l'altro richiamato l'attenzione in ordine alla corretta applicazione del decreto legislativo 33, del 2013, da parte delle aziende sanitarie pubbliche lombarde, siano esse ASL che aziende ospedaliere. Per quanto sopra, la direzione di funzione specialistica, che svolge tra l'altro attività di coordinamento e verifica in materia di trasparenza, anche nei confronti dei soggetti del SIREG, decreto delibera della Giunta regionale 87 del 2013, ha eseguito un monitoraggio sui siti web istituzionali delle aziende sanitarie pubbliche lombarde e, in ordine ai seguenti adempimenti, oggetto dell'interpellanza in argomento. Primo, nomina del responsabile per la trasparenza e l'integrità. Secondo, articolo 23, recante gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi. Con riferimento alla nomina del responsabile per la trasparenza e l'integrità, si rileva che tale adempimento è stato assolto da parte di tutte le aziende sanitarie pubbliche lombarde, siano esse ASL che aziende ospedaliere, in quanto ciascuna azienda ha nominato un responsabile per la trasparenza e per l'integrità. Con riferimento invece alla pubblicazione delle informazioni richieste dall'articolo 23 della legge 33, si rileva che le aziende sanitarie pubbliche lombarde si stanno adeguando, considerata la complessità e il volume degli adempimenti, nonché le relative modalità di attuazione di cui al decreto legislativo 33, alla normativa vigente, avendo già pubblicato nella sottosezione provvedimenti della sezione amministrativa trasparente, presente in tutti i siti web istituzionali, buona parte delle informazioni richieste. La Direzione Generale Salute, comunque, al fine di acquisire elementi utili per la risposta anche alla presente interrogazione, ha del pari condotto presso tutte le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere una specifica ricognizione. La documentazione acquisita è agli atti degli uffici della Direzione Generale e, se ritenuto utile dai consiglieri interroganti, verrà ovviamente messa a loro disposizione. Grazie, chiedo al Consigliere Violi se vuole intervenire per la replica. Sì, mi sarei aspettato una risposta maggiormente esaustiva, nel senso che capisco che molto del materiale sia a disposizione dell'assessorato, però diciamo che buona parte della risposta è stato un elenco di che cosa devono fare le pubbliche amministrazioni. Ero a conoscenza che c'era stato adempimento dell'obbligo da parte di tutte le aziende per quanto riguarda la nomina del responsabile della prevenzione alla trasparenza e alla corruzione, per il resto siamo ancora in alto mare dal nostro punto di vista. Ripeto, è davvero un dovere nei confronti dei cittadini e una possibilità di evitare o di limitare al minimo episodi di corruzione e la trasparenza. Quindi il mio auspicio è che si faccia in fretta, si faccia bene e si metta a disposizione per i cittadini il massimo delle informazioni, così come richiesto dal decreto legislativo. Grazie.